Allora, siamo qua a Moschera, prima del rientro, un po' di roba qua, si birra, vabbè, e macchinette, vabbè, lada, polifiesco, niva, guest, vabbè, e allora niente qua, no, c'è, voglio usare solo un video, come give me a break, live, va bene, on air. ah cd se volete cd di kai mezov non è per me vabbè una raccolta una raccolta vabbè si un'altra e poi kruger in russo se vi interessa tutti e quanti ah e poi un altro anche da qualche parte ah si questo strararo no non è strararo qua però va bene dai allora niente saluti